Nel mio caso è successo che mio padre è entrato in ospedale nel periodo di Covid, non è entrato per Covid, poi purtroppo è deceduto nel reparto Covid e quando praticamente ci hanno restituito gli effetti personali mancava il girocollo con un ciondolo importante che era la storia della nostra famiglia e che era un effetto personale nostro e a noi doveva tornare, non è tornato indietro. Beni personali sottratti ai morti. Lo scandalo aveva investito l'ospedale di Pescara circa un anno e mezzo fa, in piena pandemia, collane, borse, preziosi e altri oggetti che non sono mai stati restituiti ai familiari dei pazienti deceduti nel nosocomio. Dal 2014 erano già state depositate una ventina di denunce per furto smarrimento. Ci hanno detto che probabilmente potevano essere stati pazienti fra di loro, ma stiamo parlando di reparti dall'oncologia al Covid dove veramente vi invito ad andare a vedere, ci sono persone che piangono tutti i giorni perché non sanno se arrivano all'indomani, quindi non penso sia, e non sia manco corretto sentirsi rispondere in questa maniera. Ma le cose possono essere cambiate affinché questi episodi non si ripetano più, ci dicono i familiari che, supportati dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, si sono battuti per una nuova procedura di gestione degli effetti personali, che da oggi diventa più stringente. Ovviamente noi invitiamo sempre i familiari dei pazienti, nel momento in cui predispongono il ricovero in ospedale, a lasciare tutti i beni a casa. Ove questo non fosse possibile, al momento dell'ingresso in ospedale, sia in reparto o in pronto soccorso, il paziente viene invitato, il familiare viene invitato a depositare eventuali beni che ci fossero e vengono presi in custodia per essere riconsegnati alla famiglia o custoditi dall'ospedale presso il posto fisso di polizia, che poi provvederà alla riconsegna, come è stato anche durante la fase Covid. Le difficoltà legate al Covid hanno causato, o perlomeno facilitato, che certi episodi si verificassero, ma la ASL impara dai propri errori, ha dichiarato il manager Ciamponi. È chiaro che non si può proceduralizzare tutto. L'impegno è stato massimo. Tutto quello che può essere messo per iscritto non può prevedere tutti i comportamenti. Impariamo dai nostri errori.